Non leggibile. Non leggibile. Sì, questa è una fattura. Tutta roba di Milano, immagino. Questa è la ditta, però, che faceva capo a tutte queste... Non tanto... Non ce l'abbiamo. Sì, sicura. Non so di no, ho perso. C'è anche qualcosa dove vedi? A parte per la vita. No, quello che mi prego. Qui c'è.